I libri che mi hanno cambiato la vita. Moltissime volte mi capita che mi contattano dei ragazzi e mi dicono Carmine, come posso fare per iniziare ad investire? Come posso fare? Da dove posso iniziare? Io non sono un esperto in questo settore, perché io sono il primo che sta continuando ad imparare. Sicuramente ho superato quella fase delle prime armi. Magari riesco a muovermi più con consapevolezza in questo campo, ma comunque sia, io mi ritengo inesperto. La prima cosa da fare non è prendere i soldi dalla tua tasca e investirli e metterli da qualche parte. Questo è l'errore più grande che puoi fare. La prima cosa che devi fare è conoscere dove vai a mettere i piedi, quindi la strada che vuoi percorrere deve essere illuminata dalla conoscenza, se no inciampi, cadi e ti fai male. Il primo libro che mi ha cambiato la vita è Padre ricco, padre povero. Un libro che ti insegna a ragionare in modo differente dalla massa. Un esempio che posso farti è questo. C'è questo ragazzo che ha un padre ricco e un padre povero. E quello che ci vuole far vedere questo libro sono gli insegnamenti che il padre povero dà al ragazzo e il padre ricco dà al ragazzo, che sono totalmente differenti. Mentre il padre povero dice al figlio, e gli ribadisce più volte, studia figlio mio, studia e non arrenderti. Metticela tutta perché dovrai riuscire a lavorare in quella grande azienda. Mentre il padre ricco, quello che gli ripeteva sempre, è studia, formati, impara, dedica il tuo tempo alla conoscenza, ma non per andare a lavorare in quell'azienda, ma fa in modo che quell'azienda sia tua. E allora già da questa cosa possiamo capire la netta differenza tra gli insegnamenti. Ed io comunque, essendo nato in una famiglia povera, questo libro mi ha totalmente scosso e mi ha fatto dare una mossa. Il secondo libro è L'uomo più ricco di Babilonia e parla della gestione dei soldi e di quanto sia importante prendere una minima percentuale dal proprio stipendio e metterla da parte. Per poi riuscire con il tempo ad investire quel denaro, magari creandoti strade alternative, con entrate alternative. Cosa che molte persone non fanno perché prendono uno stipendio, qui lo prendono e qui lo spendono. oppure guadagnano mille e le loro spese sono mille e due. Questo è un insegnamento che non ci danno né a scuola e né da nessun'altra parte e che possiamo imparare leggendo questo libro. Il terzo libro che voglio consigliarti si chiama Pensa e arricchisci te stesso. Questo libro ti invoglia a cambiare la tua mente, ti invita a proiettarti già nel futuro, già nell'obiettivo che tu vuoi realizzare, ti invita a credere in quello che vuoi fare, ti invita ad immaginarlo in modo che tu possa viverlo e possa sentire già le emozioni come se quella cosa fosse già accaduta. Puoi avere qualsiasi obiettivo nella vita, ma se non ci credi non arriverai mai a raggiungerlo. Perché tutto parte da qui, i tuoi limiti sono solo qui. Quindi il primo passo che puoi fare è quello là di riuscire già ad immaginarti in una situazione che tu vuoi che si avveri. In questo modo puoi ben capire che già sei un passo avanti, già sei verso il raggiungimento dell'obiettivo. Di libri di crescita personale e finanziaria ce ne sono veramente tanti. Poi magari ci sono libri specifici per conoscere e imparare altre tematiche di vari argomenti. Ma per una cultura generale di questo mondo, penso che questi tre libri sono i migliori. Se vuoi acquistarli ti lascio il link qui sotto in descrizione. Non dimenticarti di seguirti sul mio secondo profilo di Instagram, che si chiama Investi sul Web, dove faccio vedere io come guadagno sul web, dove investo i miei soldi e cosa leggo per informarmi e per capire sempre di più di questo mondo. Per il resto, spero che questo video ti sia stato utile, ti mando un abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!